Il soccorritore Rocky ti darà una mano. Lo trovi in un container. Stai facendo un bel lavoro. So che non è facile gestire feriti e rifornimento insieme, ma ci serve che tu lo faccia. Poi al resto si penseranno altri soccorritori. Abbiamo bisogno di persone affidute. Se siamo al sicuro, possiamo pensare alla ricostruzione. Il mondo non è distante.